Sono Enzo Cimino, ci troviamo al DAS, il DAS che ospita Collagene, che è una interessante rassegna dove gli artisti vengono accoppiati per intrecciare le loro arti e le loro sensibilità. Questo è il secondo appuntamento, quello di oggi. Enzo Cimino e Nugo Lavandini, un sound designer e una danzatrice. Quindi è un'installazione di piante che reagiscono al contatto e si mettono a suonare, che verranno accarezzate e utilizzate da questa danzatrice nella sua imprevisazione. Quello che io farò sarà mettere all'interno di questo dispositivo il mio corpo. Perché? Perché ogni forma in realtà ti permette di entrare e di trovare, di applicare in maniera differente degli strumenti. Cominceremo insieme a produrre questo suono molto avvolgente che poi si concluderà con una spiegazione di quello che è effettivamente questo sistema. Quando le piante la tocchi, insomma, c'è questa fluttuazione di corrente che stimola poi degli strumenti musicali, dei sintetizzatori. È come se la pianta diventasse un tastierista. Arduino è un piccolo computerino che è stato utilizzato in questo caso per rendere questa tecnologia molto accessibile, molto economica. Infatti è un progetto open source che si può realizzare in casa con un minimo di conoscenze tecniche. Questa è un'idea che nasce decenni fa. Io ho avuto la fortuna di partecipare a un bellissimo workshop che mi ha fatto conoscere questo sistema. Mi ha dato uno strumento per concretizzare delle idee di sensibilizzazione alla natura e rispetto per la natura e anche rispetto di noi stessi tramite interventi artistici.